Musica Buon pomeriggio e ben ritrovati al consueto appuntamento con informazione di Telebari. I controlli rafforzati sulle strade, nei luoghi di richiamo turistico e pronto il piano della Prefettura per prevenire tutti i problemi relativi al traffico di Ferragosto. Ce ne parla Cristina Ferrigni. Più controlli delle forze dell'ordine nei luoghi di aggregazione, nelle località, maggior richiamo turistico, ma anche nei musei e nei luoghi della cultura. Potenziamento delle pattuglie su autostrade, strade statali in direzione delle località balneari e delle zone residenziali sulle fasce costiere. E quanto stabilito dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura, nel corso del quale è stato stabilito il piano di vigilanza del territorio in vista dell'incremento dei flussi di traffico e viaggiatori in prossimità del Ferragosto. In particolare, la Polizia Stradale assicurerà i propri servizi sulla rete autostradale, mentre il Corpo di Polizia Locale concorrerà nelle attività di controllo sulla rete ordinaria e lungo la litoranea, controlli mirati nel porto e nella stazione ferroviaria. Le componenti delle forze Polizia Statale e Polizia Locale rende noto la Prefettura assicurano il massimo impegno nello svolgimento dei servizi a tutela dell'Ordine, della Sicurezza Pubblica e della mobilità delle persone. E noi passiamo alla cronaca perché gli agenti della Guardia di Finanza hanno scoperto una fabbrica abusiva di divani e una pericolosa discarica a cielo aperto a Conversano. L'aria è stata sequestrata. Vediamo. Una vera e propria fabbrica di divani priva di autorizzazione accanto ad una discarica a cielo aperto è la scoperta effettuata dagli agenti della Guardia di Finanza di Monopoli a Conversano, in provincia di Bari. L'intervento delle fiamme gialle ha consentito di individuare la struttura principale di produzione e un ulteriore deposito, entrambi non dichiarati. Gran parte degli scarti di lavorazione e i divani ritirati a fronte della cessione del nuovo prodotto venivano illecitamente bruciati a ridosso della fabbrica, producendo emissioni tossiche e nocive. I militari hanno identificato anche un lavoratore in nero intento alla realizzazione dei prodotti e privo dei dispositivi di protezione individuale necessari dato anche il contatto con colle e vernici pericolose. Sulla stessa area sono stati poi rinvenuti veicoli fuori uso, motori, marmitte, batterie, pneumatici con grave pregiudizio all'ambiente. È stata disposta la sospensione dell'attività. Le agenti hanno avviato anche un controllo fiscale per la stima dei ricavi celati al fisco. La Guardia di Finanza ha quindi sequestrato i fabbricati e il suolo utilizzato come discarica bussiva per un'estensione complessiva di 13.000 metri quadri. Ed è arrivato il momento di collegarci con il nostro sito web www.telebari.it con la nostra Silvia Di Pinto. Silvia, buon pomeriggio, vengo da te. Sì Giuseppe, molta cronaca in apertura del nostro sito. Intanto partiamo da un incendio avvenuto nella tarda mattinata di oggi in corso della carboneria. è andato a fuoco un vecchio capannone. La nube nera è stata visibile in tutta la città e sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per spegnerlo sul sito. Trovate tutte le foto che ci avete, tra l'altro, mandato anche da vari punti della città da cui si vedeva questa nube nera. E poi ancora invece una interessante operazione dei carabinieri che in una cava di Minervino hanno scoperto mezzi per il valore di 200.000 euro rubati e cannibalizzati da Bari. Tra questi c'è anche un escavatore e due auto di cui si cercano i proprietari. Infine un paio di sfoghi social. Il primo ce l'ha inviato un ragazzo di Bari che si è appisolato nella spiaggia cittadina di pane e pomodoro e gli hanno rubato tutto, compreso un pc, un computer su cui conservava gli ultimi tre anni di lavoro. Quindi ha lanciato tramite il nostro sito un appello affinché chi sa qualcosa parli e lui possa ritrovare almeno il suo pc. E ancora un altro sfogo social è quello che hanno pubblicato i titolari del ristorante La Pariglia di Barivecchia pubblicando le immagini di un uomo che ha pagato che ha consumato la sua cena insieme alla famiglia e poi è andato via senza pagare. I proprietari si sono detti amareggiati e hanno invitato l'uomo a tornare sui suoi passi visto che ha calpestato i sacrifici dei lavoratori. A te. Grazie a Silvia Di Pinto. Noi invece passiamo alla politica perché il consigliere regionale della Lega Fabio Romito ha presentato una proposta di legge per tutelare i diritti degli animali. Tra i punti figurano l'inasprimento delle sanzioni per chi appunto abbandona animali e l'istituzione di un garante regionale che raccolga tutte le segnalazioni dei cittadini. Salvaguardare i diritti degli animali, sostenere le associazioni che gestiscono canili attraverso contributi economici e inasprire le sanzioni nei confronti di chi abbandona animali domestici. Sono i punti principali della proposta di legge presentata da Fabio Romito, consigliere regionale della Lega. Le azioni contenute all'interno del testo sono state presentate questa mattina all'interno del canile comunale di Bari gestito dalla cooperativa Ada Onlus. La proposta di legge prevede anche l'istituzione di un contributo a favore delle famiglie con i sé e basso che vorrebbero adottare un animale domestico. Sostenere e dare una mano ai cittadini che hanno voglia di adottare cani dai canili o anche gatti questo come lo intendiamo farlo prevedendo dei contributi per i cittadini che hanno un i sé e basso e che magari sono bloccati dall'adottare un cane perché non avrebbero la capacità economica di poterlo fare. La proposta presentata da Romito punta a combattere l'abbandono degli animali chi sarà sorpreso a lasciare per strada cani o gatti rischierà una multa fino a 6.000 euro e il doppio rispetto alle sanzioni previste dalla legge attuale. Infine sarà introdotta anche la figura del garante regionale per la tutela degli animali. Il garante dovrà raccogliere tutte le segnalazioni che spesso arrivano alle centrali operative della Polizia Locale in tutta la regione non sono processate per il gran lavoro che hanno da fare in Polizia, Carabinieri, Guardi di Finanza e Polizia Locale quindi il garante dovrà essere sostanzialmente un punto di riferimento per tutti i cittadini pugliesi che dovranno diventare delle sentinelle. Noi abbiamo presentato questa proposta di legge il 10 di agosto perché sappiamo tutti che questo è il mese più complicato per gli abbandoni. Noi continuiamo a parlare di politica perché si è tenuta questa mattina la protesta del consigliere regionale Antonio Tutolo sui ritardi nell'impiego dei fondi per la riabilitazione termale dei fragili. Il consigliere si è incatenato davanti alla sede del comitato regionale. Questione dei fondi destinati alla riabilitazione termale di persone affette da gravi patologie. Sì, voglio dire, sorprende che io debba occuparmi di questa roba qua in questa maniera. Perché sorprende? Perché non è che non ci sono andato negli uffici non è che non ho parlato con chi dovevo parlare sono mesi che stiamo parlando di questa roba qua però è chiaro che le uniche risposte arrivano quando fai queste azioni infatti stamattina, come se per incanto arriva questa risposta della regione questa è di stamattina che dice questa è una bella domanda secondo me io non so se hanno centrato il problema perché dei 5 milioni di euro aggiuntivi del Fondo Sanitario Nazionale che viene stanziato dal governo dai vari governi perché questo è il terzo anno di cui i 370 mila euro sono per la regione Puglia e quindi per alleviare le sofferenze dei cittadini della regione Puglia qui dentro non ne parlano anche se in maniera informale mi è stato detto no, ma che si occuperanno anche di questo ma mi chiedo bisogna arrivare necessariamente a tanto e soprattutto quanto tempo adesso occorrerà finché queste risorse vengano spese? Oggi la protesta è simbolicamente incatenato come intenderà procedere? Ma niente, volevo mettere in evidenza sta cosa e quindi vi ringrazio per l'attenzione perché vi posso garantire che se non c'era attenzione si facevano una grassa risata e alla faccia dei problemi della gente siete voi che risolvete i problemi non sono io e manco loro se c'è l'attenzione mediatica sicuramente qualcosa si fa E immediata la protesta del consigliere Tutolo è arrivata con una nota alla risposta dell'assessore regionale alla sanità Rocco Palese è in fase di predisposizione riferisce l'assessore regionale alla sanità il provvedimento di giunta per l'approvazione degli schemi di contratto da sottoscriversi tra le ASL e i legari rappresentanti delle terme pugliesi per quanto attiene le prestazioni di erogare con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale il provvedimento conterrà anche le modalità di erogazione delle prestazioni a carico INAIL sarà approvato entro settembre pertanto i contributi regionali alle terme conclude Palese saranno erogati a stretto giro una volta approvata la relativa delibera di giunta e noi cambiamo argomento torniamo a parlare della città di Bari perché da settembre parte la riqualificazione del sottopasso di via Emanuele Mola tra i quartieri Madonnella e San Pasquale ad opera dei volontari di retake ce ne parla Andrea D'Amacco attraversare un posto finalmente pulito bello da vedere perché molto spesso è veramente indecente e scarsamente pulito l'importante è che dopo la riqualificazione si mantenga la cura e anche che venga un po' sorvegliato il sottopasso di via Emanuele Mola tra i quartieri Madonnella e San Pasquale verrà completamente riqualificato seguendo quanto già fatto per i sottopassi Marconi e Duca degli Abruzzi ancora una volta protagonisti del recupero dell'infrastruttura sono i volontari di retake Bari il movimento che promuove la bellezza e la rigenerazione urbana grazie ad un contest promosso da Toyota i lavori partiranno a settembre per l'occasione retake ha chiesto a Comune Amio di intervenire sul ripristino dei sistemi di sicurezza e sulla pulizia dell'ascensore per istituire la cittadinanza alla bellezza di uno snodo cruciale per i due quartieri la prima cosa deve essere la pulizia perché in effetti è veramente terribile questo è uno snodo fondamentale per il quartiere perché consente di accedere a servizi che sono sparsi tra i due lati della ferrovia quindi è fondamentale lo stato dei luoghi mette in evidenza che è fondamentale un intervento anche un intervento in questioni di sicurezza soprattutto diciamo dopo il tardo pomeriggio questo diventa una zona in cui spesso insomma si vedono insomma attività poco edificanti Il decreto sul caro vuoli approvato dal Consiglio dei Ministri continua a suscitare non poche polemiche abbiamo chiesto ad alcuni titolari di agenzie di viaggio la loro opinione in merito il servizio di Maricla Pastore L'estate è la stagione delle vacanze per milioni di italiani ma è anche tempo di rincari dei biglietti aerei nulla di nuovo quindi se non fosse che quest'anno secondo i dati forniti dall'Istat i voli nazionali hanno subito un rincaro del 44% rispetto allo scorso anno così per contrastare il fenomeno e per assicurare la mobilità sull'intero territorio italiano in particolare verso le isole il sud Italia il governo Meloni ha approvato un decreto legge che limiterà l'applicazione degli algoritmi nella determinazione delle tariffe una misura per la quale il ministro Raffaele Fitto ha espresso particolare soddisfazione ma che ha suscitato non poche polemiche da parte di molte compagnie aeree l'amministratore delegato di Ryanair Eddie Wilson in una intervista all'ANSA ad esempio lo ha definito ridicolo illegale interferisce con le leggi del libero mercato secondo le norme dell'Unione Europea deve essere cancellato noi abbiamo sentito il parere dei titolari di alcune agenzie di Viaggio Baresi il decreto legge per il caro voli purtroppo è un po' forzato secondo me perché l'aumento dei voli è dettato semplicemente per questo periodo dal notevole aumento della domanda e quindi è una normale dinamica di mercato e si può fare ben poco a meno che non si diventa statalisti ma non va bene perché poi c'è troppa ingerenza dello Stato nell'economia ci auspichiamo sicuramente un riscontro positivo da questa azione del governo anche perché le tariffe come abbiamo letto negli ultimi giorni sono aumentate del 30% e lo vediamo su tutti i viaggi praticamente quindi infatti la gente si lamenta ma purtroppo la situazione è questa e noi cambiamo argomento perché è arrivata a Bari la prima vermutteria in città in stile vintage si chiama Chinato e si trova in pieno centro vediamo anche Bari ha la sua prima vermutteria che è una vera propria immersione negli anni 60 dalla musica all'aredamento e alla tecnica di miscelazione tutto ricorda gli anni del boom economico a partire dal playlist dell'artista barese Rossano di sottofondo alla formazione della Bari di Toneatto fino al 33 giri cabaret da Bari di Gianni Ciardo da Chinato così si chiama il locale alcuni elementi del capoluogo pugliese fanno da protagonista in tutte le sfumature possibili aperto da appena una settimana il vintage bar ha già attirato l'attenzione di molti over 70 che frequentano il centro Geo per anziani a due passi dal locale ma l'obiettivo è quello di raggiungere tutte le fasce d'età i titolari Nicolantonio Milella classe 1987 e Ivan Milone di 32 anni hanno introdotto due tipologie di aperitivi artigianali un bitter e un vermut di propria produzione che almeno per il momento è possibile trovare esclusivamente nel loro locale il progetto nasce durante un aperitivo all'Atene Bar Show di 4 anni fa circa tra me e Nico il mio socio e avevamo voglia di creare un amaro o comunque un prodotto che si collegasse al mondo degli aperitivi da lì è nato un progetto più grande che cosa significa significa che abbiamo creato vermut bitter abbiamo creato un locale intero dedicato al mondo degli aperitivi perché la scelta del nome Chinato da che cosa deriva allora Chinato è un interpretazione Chinato a Bari chiaramente significa leggermente sbronzo dignitosamente brillo direbbe qualcuno però Chinato in realtà si riferisce al nostro vermut Chinato con una presenza di di china è una tipologia di vermut che sono un po' più amari perfetti appunto per l'aperitivo da bere liscio con ghiaccio una scorzetta di limone o nel grande classico Milano-Torino o nel grande classico americano e adesso passiamo alle notizie provenienti dall'area metropolitana di Bari e dalle altre province pugliesi parliamo di mare oltre le barriere il progetto di accessibilità alle spiagge pubbliche di Taranto ce ne parla appunto Angelo Ingenito nei giorni scorsi il comune di Taranto ha avviato il progetto di accesso alle spiagge pubbliche che si intitola mare oltre le barriere mirato a favorire la fruizione del litorale ionico ai diversamente abili il progetto finanziato con i fondi Exilva è stato curato dagli assessorati ai servizi sociali e dal patrimonio guidati rispettivamente da Gabriella Ficocelli e Laura Di Santo il primo intervento è stato effettuato sulla spiaggia di Viale del Tramonto a cui faranno seguito altri interventi nelle spiagge di Lido Azzurro Tramontone e dell'isola amministrativa nei pressi del Lido la spiaggetta abbiamo avviato un bellissimo progetto che è quello di corrispondere l'accessibilità al mare per le persone che si trovano in uno stato di difficoltà a camminare disabili anziani che siano e abbiamo avviato questo progetto che è stato finanziato grazie ai fondi ILVA il piano strategico che tutti conoscete la scheda è la 5B e siamo contenti di essere qui ovviamente con l'assessorato al patrimonio con gli amici consiglieri comunali e le tante associazioni che vogliono condividere con noi questa iniziativa si tratta di aver ripristinato un po' un servizio di assistenza a quelli che sono i disabili oppure gli anziani e li accompagneremo ovviamente a godere delle bellezze del nostro mare con una sedia job ci sono anche dei lettini delle sedie e la passerella per poter arrivare ovviamente al mare la realizzazione di questo progetto è stata lunga è stata molto ma molto lavorata dai due assessorati da parte del patrimonio io vorrei ringraziare l'architetto Clorinda Garraffa che ha contribuito e collaborato alla realizzazione di questo progetto insieme a tutti i dipendenti dei servizi sociali ci rende orgogliosi perché superare le barriere penso sia uno dei temi più importanti che l'amministrazione Melucci intende realizzare da tutti i punti di vista e quindi siamo felici di inaugurare questa giornata e adesso noi andiamo a Putignano per raccontarvi la storia di un uomo di origine nigeriane che dopo aver aiutato i clienti di un supermercato Famila per 5 anni è stato assunto proprio dalla direzione del punto vendita ce ne parla Francesco Russo una bella storia di integrazione a Putignano dove dal 1 agosto Stalli Yui nigeriano di 47 anni e da 11 a Bari è stato assunto dalla direzione del supermercato Famila dopo aver trascorso 5 anni all'esterno del punto vendita raccipulando qualche spicciolo sistemando i carrelli aiutando i clienti con le buste della spesa Un contratto a tempo determinato che consentirà Stalli con il primo stipendio e il sostegno dei colleghi e dei clienti di Putignano di far arrivare in Puglia dalla Nigeria anche sua moglie e suo figlio Non è passaporto non posso adesso io non prendo i soldi adesso non è solo aiuto a me io prendo i soldi io vai prendo i soldi al paese prendo i passaporti subito questo documento arrivo subito arrivo qua Ma è contento? Sì grazie grazie signora Non ci aspettavamo tanta risonanza di fronte ad una decisione del tutto spontanea in seguito ad una richiesta fatta da parte di Stalin avevamo necessità e abbiamo dato l'opportunità ad una persona che in 5 anni ha dimostrato di essere rispettuoso educato e con tanta tanta volontà perché no? perché non dare questa possibilità a Stalin? Ci meraviglia il contrario veramente E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale l'informazione di Telebari prosegue sui nostri canali social e sul nostro sito web a tutti un buon proseguimento di giornata Grazie a tutti